presegnala un impianto semaforico i tre dischi rosso giallo e verde del simbolo del semaforo sono rifrangenti il disco giallo può essere sostituito con un segnale luminoso giallo lampeggiante se il segnale è permanente se invece il segnale è a fondo giallo e quindi temporaneo per lavori allora il disco giallo è sempre sostituito da una luce gialla lampeggiante i tre dischi possono essere disposti in verticale o in orizzontale a seconda della disposizione effettiva delle lanterne del semaforo cui il segnale si riferisce è posto di norma sulle strade estraurbane dove è sempre obbligatorio ma può essere usato anche nei centri abitati in caso di visibilità limitata o quando le condizioni di traffico ne consigliano l'impiego il comportamento consiste nel rallentare per poter osservare le indicazioni luminose dell'impianto semaforico grazie a tutti